Che devo fa'? Ma Pappalardo dove ce la metti?! Guarda, Pappalardo te lo mette insieme a Giorgio e Michael che lo sono sbaciucchi e tutto quanto, degno i reni dei freddi mercoli, se lo sbaciucchi e non c'è esso pubblico, poi lo metto nel camerino con i paparocci, si stiamo da un ricordo, tutti nudi, che lo soffrono! Non riesce più a parlare, non riesce più a respirare, non riesce più a cantare! Capito? Pappalardo, come tutti gli altri, Nazzaro Saurio, Gianni Celeste, Eddie Napoli, Rei Gelato, Tony Sant'Agata, il frate Cionfoli, mi hanno rovinato la vita! Questi cantanti! Sei pure il culo, hai ragione! Hai ragione! Perché il vero crocio di tutto questo è proprio Pappalardo! Abbiamo visto Steve Tyler, mille donne, Mick Jagger, 4.000 donne, Axel Rose, mille donne, Pappalardo, una donna sola, la moglie! Capito? Perché? Perché se vede che andava con qualche maschietto, secondo me, a sto punto! Benvenuto! Una falla! Benvenuto! Benvenuto!